Cedono energia e non l'assorbono. Foto di una minima parte dei 4.500 apporti prodotti presso il cerchio e seno, attraverso lo strumento NT in quasi 43 anni di attività. La catalogazione delle materializzazioni è curata da Dario Ragusa. Alcuni oggetti apportati, sottoposti ad esame chimico-fisico, nella loro costituzione intima, presentano caratteristiche sconosciute alla scienza. Per qualche tempo, ad esempio, cedono energia e non l'assorbono. Altri apporti presentano altre caratteristiche improprie. Le guide spiegano che tendenzialmente ogni apporto ha sue improprietà, dovute a ciò che si potrebbe chiamare un trauma nucleare. La similarità esperienziale vissuta dagli oggetti apportati non è riscontrabile con i mezzi della nostra scienza attuale. Il trauma che l'oggetto subisce durante la materializzazione e la smaterializzazione lo stressa fortemente ed è per questo che un oggetto apportato ha una vita meno lunga rispetto allo stesso oggetto non apportato.